E' un figlio di Bottana Mejai ad avere ucciso i nostri uomini. So che ha ammazzato gli arcieri di Sephetu rimasti assai. Non sono loro! Quando Sephetu metterà le mani su... Sta calmo, Arkuf. Ti tiro fuori di lì. Vai! Devi prendere la chiave che Sephetu tiene al collo. Presto! Nardino! Sì! 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 Sei una spina nel... Sì, 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 sì. Ehi, cosa? Beh, ehi! Ho la chiave con me. Hai ucciso quel pezzo di merda. Andiamo. Forza! Muoviamoci. Qui siamo ancora in pericolo. Abbi, salvami tu.